Grazie a tutti La giornata di sole non me la leva nessuno oggi, due ore Ma come man si aprono queste porte? Si devono essere rotte Ora o me fa? Il cellulare l'ho lasciato in macchina Ah, il telefono a Marcello Sì, il telefono a Marcello, vieni Sì Oioio, mi hai isolato anche il telefono Ora o me fa? Oh, com'è? Ok, cos'è? Cos'è? No, non è possibile Cos'è? No, non è niente sicuramente Qui sotto è tutto bene Però voglio avvicinarmi Voglio uscire da qui Scalpi, vi voglio bene Ma voglio uscire Cos'è anche i rumori Ah, che bello No, via Se poi guardo anche la Geox Se guardo queste belle sandali infatti in Italia Ma cos'è? Mamma Ma cos'è? Ma quando rimango solo c'è sempre questi lavori qui L'unica cosa che funziona il bottigone sono le scarpe Meno male che voi non mi fate mai paura Mi danno sempre le soddisfazioni Oh Silvia, che fai? Chi c'è? Chi c'è? Chi è? Chi è? Chi c'è? Qualcuno? Sei qualcuno? Vieni, sei io Sono Marcello Ma tu sei passito? No, non vengo Aiuto Vieni, stavo qui a preparare gli sconti Sto andando a tagliaprezzi Ma che fai? Su Vieni Marcello ma ti sei passito? Ti sei passito? Chi hai avuto paura? Mi hai fatto prendere una paura Mi hai battuto con questi prezzi quest'anno Per gli sconti del bottigone Ma te sei Prezzi già ridicoli Adesso a fettino Ma cosa fai con la Sconti da paura? Marcello Marcello ma c'è bisogno di chiudermi dentro il negozio per fare questo lavoro Sì c'era bisogno di chiudere tutti Ma te sei amato Per il primo i prezzi Marcello ma che ho fatto? Ma che vuoi? Cosa a tutti i prezzi? Ma te sei impazzito? Te sei impazzito? Ascolta Il sole a te ti fa male Guarda questo Guarda come viene bene via Ma perché vuoi si viziare tutti questi prezzi? 199 euro Guarda la metà Tagliamolo bene Ecco Questo deve rimanere al bottigone Ma te sei impazzito Marcello Prezzi per tutta la stagione ridicoli Adesso fatti a fettine Sconti da paura Saldi da paura al bottigone Sì la paura me l'ha fatta Sì ma te sei impazzito Accidenta Guarda Lo sai se non c'è sempre una Sì ho capito Ma mi devi far prendere Ma guarda Ma lascia l'istante questi prezzi Ci potrebbero servire Non ci servono più Guarda questo filetto com'è buono Di 111 euro Ma non ci servono più quei prezzi No Non ci servono più adesso Perché a luglio agosto al bottigone facciamo sconti da paura Saldi grossi Importanti Oia oia ma tu le avevi già belle C'erano già dei prezzi bassi Io pensavo di stare tranquilla Non ci vanno il battutino Anche 10 euro Anche 10 euro Ma al petito sconti 15 130 Ma vuoi scontare tutto Ascolta no no Non ci siamo Non ci siamo Ma Ma te hai già iniziato a fare qualche saldo Ma te cosa fai? 168 No 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 168 Ma cosa va impazzito? Ma è impazzito Ma tutti i prezzi che stanno Quei sconti Ma sì Macederia Fabulous Bottegone della calzatura Ma levali quei cortelli Che a me mi fa un po' paura 199 Ma ragazzi Metà Metà Altri discorsi Ma Sconti da paura al bottigone Andiamo a far vedere qualcosa Ma sconti Ma da paura Ma c'è anche il rimborto benzina Aaaaa Andiamo Oh Oh ma posalo Posalo qui il cortello E questo rimborto Benzina lo sai No 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 Ma non te neanche quella Gengio lì perché già Se ne sente tante eh Innanzitutto No 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 Va detto quando siamo a sconto Tutto luglio e tutto agosto Oioia Nei termini di legge Al bottigone della calzatura Ci saranno i saldi di fine stagione Con sconti Fino al 70% Fino al 70% Ed in più Silvia Vieni vieni Stai tranquilla No Stai tranquilla Stai tranquilla Un pifero Fetto solo i prezzi Vieni Un pifero Eccoci Ed in esclusiva come sempre Rimborso benzina del 10% Quindi come minimo Anche su tutte le cose Che non trovate scontate Perché magari sono Ciabatte arrivate ora Oppure sono già nuove arrivi C'è il rimborso benzina del 10% Io non sento nulla E' un 10% di sconto alla cassa Tu sai che ghiaccio sei Sei anche ghiaccio Sulle collezioni Primavera e estate del 2015 Ci sono gli sconti Fino al 70% Pensate bene Facciamo qualche esempio Da donna Io ti dico di sì Certo Andiamo da donna a fare qualche esempio E figurati se ti dico di no Su c'è una ghiaccio e mano No 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 Tagliamo Tagliamo questi prezzi Scusa Marcello ma cosa fai? Guarda No Ma dai Ma Marcello Ma te ti sei dimenticato Avvi pazienza Te te lo dico Anche se tu c'hai il cortale Ma ti sei dimenticato Tagliamo vai Ma scusa Qui c'è il 50% Sì 45 meno il 50 22,50 Ma ti rendi conto Che ci sa anche il 10% di sconto E certo È il nostro così Ma bisogna darlo Ringraziamo i nostri clienti No guardate i prezzi Venite col sorriso in bocca Guardate i prezzi Al bottegone della calzatura Nel mese di luglio E di agosto Perché qui non c'è da aver paura No C'è da essere contenti Di questi prezzi Veramente bassi Ridotti all'osso Scarpe come queste Che hanno Sandali arrivati ora Ad esempio Il 20% di sconto Questi hanno il 30% di sconto Qui c'è il 50% di sconto Il 50% Il 30% No ma dai Ma scusami Ma te se ti sei proprio bevuto il cervello oggi Guarda là 60 meno il 40 36 più c'è il 10% di sconto Benzina alla cassa Infatti è anche facile risparmiare E divertirsi A risparmiare nel bottegone È tutto indicato Io non mi sono divertita Questa scarpa che costava Questa scarpa che costava 60 euro Adesso ad esempio Qui c'è il 40% di sconto Che viene 36 euro Come prezzo finale Alla cassa Ricordatevi che Solo al bottegone La cassa Avrete un altro sconto Del 10% Lo facciamo Su un singolo paio Ma anche sulla spesa totale La solita cosa 10% 10% Per rimborso benzina Perché i nostri clienti Vengono anche da molto lontano E vogliamo Chiaramente ringraziarli E lo facciamo solo adesso Sta lontano quel portello Ma te hai tagliato anche il prezzo A queste qui Ma le vedi Guarda che stanno Le questione Taglia Metà Metà 42 Sono arrivati adesso Sono arrivati adesso Metà Metà Ma più c'è il rimborso benzina Alla cassa Quindi vuol dire Altre 2 euro e 10 Di sconto alla cassa Che vi rimangono in tasca Ma questo è bello E solo al bottegone Alla rosa di terricciola Anche queste qui Metà prezzo Ma come si fa Inizia ora l'estate Ma te mi mandi Lo sconto benzina Alto che mare Te mi mandi Te mi mandi A malora Lo sconto benzina Lo facciamo anche Su tutti questi articoli Che non passano in moda Le ciabatte Classiche sportive Eleganti Giovanili Scarpi in tessuto Extra comodo Sandalini in tessuto Extra comodo Prezzi bomba Bassi Veramente Da approfittarne Ed in più Alla cassa Sconto benzina Del 10% Ma solo adesso E chiaramente Finché ne ce n'è Perché non è Non è che ne durano Per tanto tempo Magari arriveranno Dei sostituti Altre cose Arriveranno Dei sostituti Altre cose No deve avverte Si vedrà Si vedrà Ma te oggi Nel volso Ti sei voluto sfugare Ho preso coltello Mannai a grembiule Davvero macellaio E sono venuto A distruggere Ho capito Ma scusa Non si potevano bruciare E basta No L'hai scannati L'hai scannati Li vedo Ma poi c'è bisogno Di fare lo sconto Anche su Nero Giardini Anche su prodotti Importanti Come Geox Nero Giardini Là dove c'è anche L'assortimento Anche fra l'altro Di numeri grandi Come il 41 E in certi casi 42 Guarda che standard Che tu hai scontato Dei Nero Giardini Sono arrivati adesso Praticamente No guarda che Inizia ora l'estate Ma il botte con la cassatura È diventato famosa Anche per queste cose Ho capito Marcello Per ammazzare i prezzi Venite Ti l'hai ammazzato Ti ammazzate Venite perché qui I prezzi sono da paura Ma ammazza lui I prezzi sono da paura E le bocche devono ridere Perché a questi prezzi Non solo si risparmia Ma si ride Ascolta Non si può scontare Anche questa roba qui Eh no Eh no Non è possibile C'è lo sconto Anche su prodotti Più eleganti E in più il rimborso benzina Alla casta Ora la prendo E la manda E gli attiro quadrati Le scarpe da ballo Che magari sono anche introvabili Ti riprendo una C'è già Artigianale Eccetera C'è Ci sono dei prezzi Giusti Bassi Con delle offerte E adesso Ma solo per adesso Quando ci sono gli sconti Ci facciamo il 10% Di rimborso benzina Vedete Questa è una scalpa Che non passa certo di moda Senti male Con lo scamosciato sotto Adatto proprio a ballare Ce ne abbiamo tanti modelli Ah Adesso E solo adesso Non lo chiedete Prima di luglio Non lo chiedete Dopo agosto Perché non ci sarà più Solo adesso Il 10% In un borso benzina Siamo aperti In occasione dei saldi Domenica 5 Dalle 9 alle 13 E dalle 16 alle 20 Quindi venite numerosi Se volete profittare Di questi sconti Io verrei se fossi in voi Da paura Scusate Te parlavi anche di prezzi alti Ho capito Dei prezzi Di sconti alti Sì 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 70% di sconto Mi fa paura E basta Non avevi paura di me Lo sai Sono un po' pazzerello Poi a casa Faccio un manzueto Qui per esempio C'è 70% di sconto 70% di sconto Ma non è che Vi facciamo alzare Prima la mattina No Qui ci sono fissi Fissi questi sconti Tutto il giorno La domenica A fine luglio Certo Chi prima arriva Prima trova l'assortimento 70% Fatta in Italia Di pelle Il 70% di sconto Più un rimborso benzina Alla cassa Anche qua Anche qua Anche qua 70% di sconto Ma chi arriva tardi 70% di sconto Ma chi arriva tardi Troverà Sicuramente Meno assortimento Di scarpe Made in Italy Vedete Made in Italy Guarda che scarpe che sono Troverà Meno assortimento Di scarpe Che state vedendo Ma ne arriverà Altra a sostituirli Anche i nuovi arrivi Anche i nuovi arrivi Quindi Più un rimborso benzina Alla cassa Vieni Silvia Guarda In più No ZAAA ZAAA Ma la smettimi ZAAA 70% 50% di sconto Sono gli articoli di moda 50% 40% 40% 70% Qui c'è 40% Quindi risparmi incredibili Ma questo scarpe Poi è facile Perché non è No 50% Guarda questi qui sono proprio La pressione alla mia nipote L'ha pagata Più lei La mia nipote No E li si regalerà un gelato La bimba Eh regalalo Sì Per esempio È facile anche capire Come risparmiare Questo Finché ce ne sono Questo modello Ad esempio Costava 42 euro Adesso lo abbiamo messo Al 50% Quindi costa 21 euro 21 euro Ricordatevi Se no Se non me lo ricordano Le commesse Noi Ricordatevelo Però Altrimenti Venite alla cassa Vi diamo un altro resto 2 euro e 10 Ma perché Ma perché Se sbagliate No Perché alla cassa Anche in questo caso Come tutte le spese Sulla spesa finale C'è un 10% Extra di sconto Per rimborso benzina E non è che lo facciamo Tutto l'anno Maga dandovi da te Essere a scontandolo Per la cassa No È uno sconto reale Fatto su prezzi reali Ve lo facciamo capire Perché solo adesso c'è Quindi Approfittatene Questo qui L'ha diviso in due Il prezzo Più il rimborso benzina Quindi Altro che il diviso in due L'hai proprio macinato Il prezzo Il prezzo Non si spende neanche 20 euro No ma cosa fa Oioioio Ma no Dai 70% di sconto Qui l'ho tagliato dalla testa Ormai 70% Più 10% Più di rimborso benzina Su questi articoli No guarda Eh sì 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 Qui 50% Ma questi qui sono modelli Di Marcello Guarda che scarpe che ci sono Guardate le scarpe Vera pelle Fatta in Italia Guarda Silvia L'ho fatta anche qui Qui c'è il 40% Più il rimborso benzina Anche qui che sono arrivati In questi giorni E altri ne dovrà arrivare Ma perché C'è il rimborso benzina Su prezzi bassi Costano circa 20 25-30 euro Italiani In pelle Anche qui c'è il rimborso benzina 10% Ma perché ha voluto tagliato tutto così Eh taglio Ma poi Saldi da paura Risparmio garantito Al bottegone e a calzatura Durante i saldi In luglio e agosto Aspetta Come si chiama il macellaio dei prezzi? No perché È della carne Ma te sei un macellaio dei prezzi? Non lo so Andiamo da uomo Vai Allora Mi capirete un giorno Quando non vedete strada Saldi da paura Saldi da paura Qui trovo Grisport E poi L'inontola Se prendo una scarsa gratis Langergett Skechez Nero Giardini Lightstep E Ma qui ci sono i migliori marchi Braking Zen Le marche giuste Per la famiglia Che assortimento? Benson Benson C'è lo sconto del 30% Su certi articoli E poi E poi Ecco E poi Non vi posso fare lo sconto Su queste scarpe qui E' bene essere onesti Qui Abbiamo fatto solo Fra virgolette Cioè addirittura Io direi Lo sconto benzino Il 10% Perché sono scarpe toscane Che ogni giorno arrivano Di assortimenti E non le possiamo certo scontare Già Già mancano Mancano Non si trovano E hai scontato E hai scontato Di già anche La Geux La Grisport La Lightstep Ma che si va a scontare Delle scarpe del genere Con questa suola qui Lo sa che questa suola qui È fatta da bene 6 strati 6 strati Eh Lo sa che il pieno è Soltanto per lo studio Di questa suola Bisogna Ma ammazzo 50% di sconto Su queste Scarpe giovanini Sane italiane Metà prezzo Metà prezzo E alla cassa Rimborso benzina Il 10% Hai capito Silvia Ah no Io ho capito Ah Sai perché oggi Mi parte il cortello Sì Ho capito Sulla Geux Ma sulle nuove arrivi Su nuove arrivi Non ci scommi Non fa nulla Aspetta ma sulla Geux Soffermiamoci un'altra Sulla Geux Poi se prendo la scarpa Allora sulla Geux Ci trovate E lui è matto Sulla Geux Sì scusate Sulla Geux Ci trovate 50% di sconto 30% di sconto 20% di sconto Più rimborso benzina Certo 30% qui sulla Igeco Cos'è questa roba qui I nuovi arrivi No Già i nuovi arrivi Guarda Marcello C'è già l'offerta del 20% Stiamo Stiamo registrando la trasmissione A inizio luglio Stai lontano da me Stai lontano Sono già arrivate Mi hanno detto 45 modelli di Grisport Qui sono solo 7 6 Ma c'è l'offerta del 20% Invernali Fra uomo e donna Prezzi bomba Si taglia anche Ma che c'è anche Rimorso benzina 20% più rimorso benzina Su modelli nuovi Invernali Chi prima arriva Prima gode Prima macina Prima macina Allora Gli sconti pazzi Del bottegone Da paura Venite perché troverete Come in questo caso Quest'esempio I nuovi arrivi Della Grisport Quelli più venduti Con le offerte Si ho capito E rimborso benzina In 10% Quindi camminate prima Su prodotti giusti Ve le comprate anche Con lo sconto benzina Quindi Ci siamo Non ci siamo Voi venite perché Questa è esagerata Nike Tagliamo Le scatola bambino Abbiamo fatto dei tagli Poveretti Tagli 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 Venite Come sempre numerosi Perché ci sono i saldi Da paura Ma la paura Non è che la dovete A venire al bottegone La paura L'hanno i prezzi L'hanno i prezzi I prezzi bassi Tagliati Degli sconti Del bottegone La casatura Più lo sconto benzina Del 10% E aspettiamo anche Domenica 5 Luglio A letto non le portà Stasera quella roba Perché lui E' pazzo Oh Marcello Fermati Ma è pazzo A che telefono io A che telefono Per farti curare A chi